Venerdì 13 febbraio, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. I comitati contro l'eolico selvaggio non mollano e bloccano nella conferenza dei servizi l'insediamento di tre nuovi impianti. Intanto il Movimento 5 Stelle preannuncia mozioni di sfiducia a frattura sulla questione sanità. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Eolico selvaggio e sanità, ovvero ambiente e salute, due temi scottanti che alimentano il dibattito e accentuano il distacco tra i cittadini e la classe politica. Contro le paleoliche e a difesa della salute, i diversi comitati non mollano e bloccano ancora una volta nella conferenza di servizio il nulla osta per l'insediamento di tre nuovi impianti. Emilio Izzo, continua la battaglia contro l'eolico selvaggio. Continua la battaglia contro la devastazione di un territorio voluta da una massa di amministratori, sindaci, consiglieri, presidenti di regione che non amano questa terra. Oggi per l'ennesima volta non lo hanno dimostrato perché c'è anche il comune di San Piasi, di Limosano, di Sant'Agio Limosano che vogliono il loro impianto. E ovviamente c'è una dirigenza inadeguata da una parte a seguire questo tipo di discorso e da un'altra parte che ha delle forti collusioni evidentemente con chi propone questo tipo di impianto. Perché se a distanza di tanti anni ancora non ci si dota di un piano energetico regionale, la si dice lunga su quelli che sono gli interessi di una serie di soggetti su questo tipo di settore. Come è finita la conferenza di servizi per i tre impianti? Non poteva finire che diversamente, l'ennesimo rinvio dopo diversi anni perché come dico io in un termine dialettale c'è una massa di impagliaseggi, c'è di persone che non sanno perché nemmeno ricoprono quel posto, ancora non sanno di preciso cosa rispondere alla società, ancora non sanno di preciso cosa rispondere all'opinione pubblica, c'è solo una risposta da dare. Chi è inadeguato, in modo particolare la classe politica che dirige questa regione, deve rimettere il mandato perché non è rispettoso né del mandato, né della terra, né delle popolazioni. Intanto, secondo il giornale del Molise, sullo sfascio della sanità, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico e Patrizia Manzo, hanno preannunciato una mozione di sfiducia al presidente della regione Paolo Frattura. Che faranno gli eletti a Palazzo Moffa del centro-destra e i malpancisti del centro-sinistra? Lo capiremo nei prossimi giorni, ma tutto lascia prevedere che andranno a sostegno del governatore Paolo Frattura e che difficilmente i pentastellati troveranno le cinque firme necessarie per discutere in aula la mozione di sfiducia. E si parlerà proprio di sanità nella puntata di Moby Dick in diretta questa sera alle 21. Saranno ospiti in studio di Giovanni Minicozzi il presidente della regione Paolo Frattura, l'ex governatore Michele Iorio, il vice sindaco di Agnone Cacciavillani, la responsabile del comitato Il Cittadino C'è Enrica Sciullo, Don Francesco Martino, responsabile della pastorale per la salute della diocesi di Trivento e Roberto Fagnano, direttore ASL di Teramo. Interverranno anche Franco Di Nucci, presidente del comitato articolo 32 e Carmine Vasile, sindacalista della Fialz. L'appuntamento dunque questa sera alle 21 su Telemolise con Moby Dick. Trattativa agli sgoccioli sul futuro dello zuccherificio del Molise, domani l'imprenditore friulano Diego Volpe Pasini sarà a Termoli per incontrare i bieticoltori. La sigla dell'accordo è data per imminente. Sentiamo Manuela Iorio. La notizia è arrivata ormai anche alle orecchie dei dipendenti. Domani alle 16 Diego Volpe Pasini sarà allo zuccherificio del Molise per partecipare a un'assemblea con i bieticoltori. Evidente che si parlerà di semine per la prossima campagna e a questo punto è legittimo ipotizzare che se l'imprenditore friulano sarà a Termoli vuol dire che in questi giorni la trattativa per il fitto dello zuccherificio ha fatto passi in avanti, anzi da gigante verrebbe da pensare. Pasini di recente si era proposto per prendere in mano lo stabilimento per un anno con l'obiettivo di produrre tra i 250 e i 300 mila quintali di zucchero di cui avrebbe già impegnato la vendita. Un'operazione che porterebbe nelle casse dell'azienda diverse centinaia di migliaia di euro e che finirebbero dritte nel portafoglio del concordato e quindi ai creditori. Passato l'anno poi si aprirebbero diverse ipotesi tra cui quella dell'acquisto dell'azienda, compresa la parziale riconversione. Proprio nell'ultima settimana i sindacati avevano denunciato troppo silenzio intorno allo zuccherificio chiedendo incontri a Regione e Ministero. Che il silenzio di questi giorni si sia tramutato nella sigla dell'accordo? Solo domani i lavoratori conosceranno la risposta. Un patto per la sicurezza, quello che sarà sottoscritto oggi tra le prefetture di Campobasso e Isernia, la Regione e i comuni del capoluogo di Isernia, Boiano, Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Riccia, Termoli, Agnone e Venafro. A Palazzo di Governo a Campobasso ci sarà anche il Vice Ministro dell'Interno, Filippo Bubbico. L'intesa mira a rafforzare la collaborazione per garantire maggiore sicurezza ai cittadini promuovendo e coordinando azioni di contrasto alla criminalità come la prevenzione. È tutto per la nostra informazione, adesso la rassegna stampa. Con Donato Mignogna in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it Sanità, mozione di sfiducia contro Frattura, i 5 Stelle vanno alla prova di forza con maggioranza e opposizione. È il titolo dell'articolo firmato da Pasquale Di Bello sul tema Sanità pronta una mozione di sfiducia a carico del Presidente Frattura ad approntarla ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Antonio Federico e Patrizia Manzo. All'orizzonte si paventa anche una conta delle opposizioni chiamate ad esprimersi su un tema che potrebbe determinare la fine della legislatura e stasera a Moby Dick su Telemolise, ricordiamo, Frattura sul ring contro Iorio, scrive Pasquale Di Bello nel suo articolo. Vediamo adesso gli altri titoli del giornale del Molise.it Zuccherificio, Volpe Pasini in azienda, accordo vicino, discarica di Montagano, il Consiglio di Stato ribalta il giudizio del Tarre, accoglie la richiesta di sospensiva, l'udienza ci sarà il 15 aprile. Vince anche il Molise al Festival di Sanremo, il palcoscenico è stato realizzato da una vetreria di Isernia. Omicidio di Lucio Niro, sono passati sette anni, la famiglia ancora attende l'appello. Ripalimosani, tutto pronto per la mascherata 2015 in scena domenica. E poi rifiuti sospetti interrati, la Procura ordina nuovi scavi nel territorio di Sesto Campano. Comune di Campobasso, partono 50 borse di lavoro. Crise a Isernia, Brasiello trova l'escamotage, deleghe di gruppo ai dissidenti. Polemiche e poltroni a Venafro, Antonio Sorbo, dice quell'unione non è per niente pia. E poi a Montenero di Bisaccia si scaldano i motori per le elezioni amministrative. Ancora IMU, Agricola, Scaduta, Ok, Aeroinvi, Tranne Termoli e ITRx, Dipendenti, scrivono a Frattura. Ci sono poi editoriali, idee e opinioni, altre notizie dalla regione, ma anche dall'Italia e dal mondo. Vediamo adesso primo piano Molise come titola. Sanità, i grillini sfidano i consiglieri di centrodestra, sfiduciamo Frattura per presentare la mozione. Servono cinque firme, Federico e Manzo. Le nostre ci saranno, siamo coerenti con quello che diciamo. Il Movimento 5 Stelle tira le somme dopo due anni di amministrazione targata centrosinistra. Calo dell'occupazione tra il 2011 e il 2013 Molise, maglia nera. Riparte la mobilitazione dei sindacati. E poi ancora per la sanità, Larino, riconversione del vietre. Anche il Consiglio di Stato boccia il ricorso del comitato. Vediamo le altre notizie. Il Comune di Isernia, crisi, la tregua, di nuovo a rischio. Brasiello annuncia la fine delle ostilità e la riassegnazione delle deleghe agli stessi assessori. Ma i dissidenti rimettono tutto in discussione. Vediamo le notizie in alto. Larino, cittadinanza onoraria al dottor Mariano Flocco, primario dell'Hospice. Campobasso, piovono calcinacci dal tetto, transennato il mercato coperto. Monteroduni, scomparsa nel nulla, disperato appello dei figli di Irene Cristinzio. Rifiuti interrati, escavatori in azione a sesto campano, rinvenuti scarti edili e diffonderia. Per quanto riguarda invece le notizie dall'Abruzzo, vasto scontro frontale in via del porto, autodistrutte, feriti i due conducenti. Per lo sport, serie di Termoli, in sciopero il gruppo non si allena. La ricorrenza, 30 anni fa, la Juventus, battuta dai lupi al Selvapiana. Abruzzo, vastese, la cura vecchiotti inizia a dare i frutti sperati. Passiamo a vedere il quotidiano del Molise, trasporti, faccia a faccia, ATM, Regione. Nanni apre al dialogo, ma le eventuali pendenze vanno accertate per legge. Dopo il mercoledì nero dello sciopero si tenta di trovare un accordo fra Assessorato e La Rivera. Oggi l'incontro tra l'Assessore ai trasporti per Paolo Nanni e i vertici aziendali. Dunque si cercherà una soluzione, soprattutto definitiva, al problema. L'apprezzamento di Ruta Question Time, filiera del latte ad Expo 2015, soddisfatto il senatore. Agnone, al Caracciaro non ci sono anestesisti. L'ospedale in coma. Termoli da Zuccherificio a Centrale Biomasse, Movimento 5 Stelle, mette in guardia. Isernia, acquisizione officine tessili IKF pronta a sbarcare in Molise. Montagano sulla discarica primo round al Kodakons in Consiglio di Stato. Termoli, il parco comunale da polmone verde a zona degradata. E poi Campobasso, promesse di rimborsi via email e nell'avverte è una truffa. Le notizie sportive, calcio Serie D, Termoli la squadra non s'allena e lancia l'ultimatum a Calarco. Per la Serie D, Vullo, sempre per la Serie D, Vullo rafforza il centrocampo dei Lupi, Todino verso il recupero. Anniversario, 30 anni fa, l'inaugurazione dello stadio a Campobasso con la vittoria sulla Juventus. Ricorderete, Ugo Lotti regalò la gioia più grande nella storia rosso-blu. La Gazzetta del Molise, discarica di Montagano un appalto cucito. Questo è il titolo e il servizio all'interno a pagina 3. L'Oscar del giorno a Laura Sansone, mentre il tapiro del giorno la Gazzetta lo assegna all'assessore regionale Pierpaolo Nagni. I quotidiani nazionali adesso, Ucraina, la tregua fragile. Accordo a Minsk, solo domenica il cessate. Il fuoco, 50 carri russi varcano il confine, spiraglio nella crisi greca. La Germania apre al compromesso dalla BCE 5 miliardi ad Atene. Poi c'è la copertina, la grande paura dei musulmani d'America. Dopo la strage nel campus, cresce la tensione nella comunità islamica. Respinta da tre ospedali, c'è questa notizia, muore appena nata. Catania, la piccola, ha avuto una crisi respiratoria. Mattarella, il Presidente della Repubblica, dice dolore e sconcerto per questa tristissima vicenda. Dalla Repubblica passiamo a vedere il Corriere della Sera. La lista segreta degli evasori. Frode da un miliardo con un giro di polizze. Dubbi sulle popolari indaga Roma. Fisco, Banca Svizzera al centro dei controlli, 351 nomi. Genovese, deputato PD, accusato di riciclaggio. Alla Camera insulti e urla tra i banchi. Nel bunker di Berlusconi si contano fedeli e infedeli. Poi accordo sul cessate il fuoco in Ucraina. Obama, Putin ora ritira armi e soldati, dice. Ospedali pieni, muore appena nata. Catania, no da tre strutture. Il papà, una cannula, l'avrebbe salvata. Mattarella, dice. Sono incredulo. Vediamo il tempo. A Fittopoli ci costa un miliardo l'anno. L'elenco segreto, la malagestione degli immobili capitolini vale quanto. La tassa sulla casa, nelle carte spunta di tutto. Persino chi paga appena 6 euro al mese per 870 metri in centro. Poi Matteo Rischia, tra grillini e minoranza PD. Braccio di ferro sulle riforme. Dal tempo passiamo a vedere la stampa di Torino-Grecia. Salvataggio più vicino. Ucraina accordo ai negoziati di Minsk per il cessate il fuoco da domenica. Merkel e Hollande cauti. Ancora molto da fare. Obama dice Putin ritiri i soldati. Al vertice europeo primi passi per la rinegoziazione del debito di Atene. La BCE concede altri 5 miliardi. Addio alla Troica. E poi non c'è posto in tre ospedali. Muore neonata in Sicilia. Mattarella dice incredulo. Personaggio addio alla leader riluttante. Così in sette giorni la cancelliera ha preso per mano l'Europa. Dalla stampa passiamo a vedere il giornale. Soldi in Svizzera. Tutti i nomi. Ecco la lista Falciani. Imprenditori, manager, star dello spettacolo e famosi stilisti. Ma molti avevano titolo per avere quei conti. Altri hanno già sanato. Ci sono anche il moralista Civati e il finanziere del Premier. Poi l'appunto senza Nazareno. Matteo si impantana tra mille rinvii. L'articolo a firma di Adalberto Signore. Vediamo. Libero. Indagine sui pasticci di Renzi con le banche. Per IPM c'è l'insider trading. Qualcuno sapeva prima e si è arricchito con il decreto sulle popolari. Adesso il Premier spiega in Parlamento perché aveva tanta fretta. E ci parli anche dell'istituto di papà Boschi, scrive ancora libero commissariato, e dei nostri soldi in Monte dei Paschi di Siena. E poi emergenza e immigrazione. Matteo prepara lo sbarco in Libia, scrive Fausto Carioti. Il mattino. Campania a rischio soltanto 15 ettari, terra dei fuochi, il bilancio delle verifiche sanitarie. Un decreto blocca le coltivazioni in una minima parte del territorio, raddoppiati i militari antiroghi. E poi Nicole, vergogna italiana, neonata muore in ambulanza dopo il rifiuto di tre ospedali. Mattarella dice incredulo. Catania, la bimba colpita da crisi respiratoria dopo il parto in una clinica, il ministro invia gli ispettori. E il commento di Veronesi, una morte disumana, l'allarme doveva scattare prima. Il fatto quotidiano è il mistero della Boschi scomparsa. Questo è il titolo. Giurava di aver disertato il Consiglio dei Ministri, che ha riformato le banche popolari, inclusa quella dell'Etruria, di cui è vicepresidente suo padre. Era in Parlamento, ma si scopre dai resoconti che non è vero. I PM di Roma indagano sui guadagni sospetti in borsa. Avvenire tregue d'Europa. Questo è il titolo. Cessate il fuoco per l'Ucraina, ma è tensione e salvataggio greco. Prime schiarite con Atene. Accordo su armi e prigionieri. Obama, Putin ritiri i soldati. Merkel pronti a compromesso con Tsipras. Dalla BCE altri 5 miliardi. E poi nascite dall'unità mai così poche. Lo sboom, scrive, avvenire. Contagia anche le straniere. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Parla Collina. Cambiamo il fuorigioco. E non solo, dice il designatore UEFA, compie 55 anni e fa tre proposte forti. Vanno rivisti anche il fallo di mano e la tripla sanzione. Tavecchio, sorteggio, terremo conto degli arbitri. E poi in alto Ventura. Io vecchio col Torino e Libidine continua. Il tecnico Granata si candida per la Nazionale. Potrei dare ancora cose importanti. Ferrero, tutte le mie canzonette preziosi. Trottolino, il presidente della Samp. Ieri a Sanremo, alla Roma, canto parole. Non pigliano mai lo scudetto, dice. E poi Braida, ho sorpreso Gagliani. E lo sfido col Barcellona. E Giaccherini, il Cesena e la Juve. Vi racconto il mio derby. La sfida del cuore di domenica. Conte è un sogno. Lavorare con Murigno sarebbe stupendo, dice Giaccherini. Bene, con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa. Prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise, come sempre, in diretta alle 14. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.